Allora, buon pomeriggio, saluto i pochi ma buoni presenti, eroi, oserei dire, di questo pomeriggio. Parlerò, toccherò un tema altrettanto, credo, spero interessante, che è quello della preservazione della fertilità nella paziente oncologica. Anche qui, insomma, si può in qualche modo anche fare un po' riferimento per certi aspetti, anche rispetto a quanto spiegato prima dalla dottoressa Ceccarelli. Sono una patologia che è in crescita, sono 30 i nuovi casi di tumore in pazienti in età inferiore a 40 anni diagnosticati ogni giorno in Italia. E tra questi, giusto per parlare di medicina di genere, c'è una netta prevalenza nel sesso femminile. Tra questi tumori che si manifestano in età giovanile, il carcerone della mammella, è vero, non è la causa di morte maggiore, ma è sicuramente una delle cause di maggiore influenza, di maggiore impatto sulla donna fertile. 3.000 donne in età fertile vengono colpite da questa malattia e rappresentano il 6% delle diagnosi fatte. Poi a seguire abbiamo il tumore della tiroide, l'infoma non-notchking, il tumore colon retto e il tumore della porzio. Questa è medicina di genere perché logicamente il tumore della porzio è tipicamente femminile. Che cos'è, oggi si sarebbe dovuto e forse si spiegherà un po' alla popolazione, che cos'è la preservazione della fertilità per motivi medici? Perché ho fatto questo distinguo? Perché esiste una possibilità di conservazione anche per motivi non medici. Allora, la preservazione della fertilità può interessare tutte quelle pazienti che in qualche modo devono subire trattamenti di tipo chemioterapico o radioterapico, per cui la loro fertilità viene messa in crisi, oppure in pazienti che dovranno sottoporsi a operazioni chirurgiche dell'apparato riproduttivo e pertanto anche in questo caso potranno avvalersi di questo trattamento. Sostanzialmente la preservazione della fertilità sia nell'uomo che nella donna consiste nel preservare ovuli o spermatozoi e stoccarli in appositi contenitori a meno 196 gradi, in modo che restino esattamente nelle stesse condizioni in cui si trovavano, nei giorni in cui sono stati conservati. Nei quali casi è indicata? Appunto, abbiamo già detto prima, i pazienti o uomini e donne che sono destinati a sottoporsi a trattamento di chemioterapia o radioterapia, donne che devono sottoporsi a operazioni chirurgiche a rischio di perdita totale o parziale della vaia, come quelle che, per esempio, sono affette da endometriosi. Questa è una novità per quanto riguarda il servizio pubblico, perché in qualche modo dopo tanto dire, insomma dopo tanto fare, siamo in via di risoluzione per poter arrivare anche a questo tipo di conservazione. Il punto nodale risulta sempre, come sempre, essere l'informazione. Solo il 10% delle donne che soffrono di una patologia tumorale sanno che si può arrivare ad una, diciamo, buona, ottima, possibile, reale attività di conservazione del proprio patrimonio genetico. Ci sono sempre nell'ambito della comunicazione alcuni temi che sono particolarmente sentiti dalle persone, sia dagli uomini che dalle donne. Le gravidanze, i trattamenti, quello che succederà al nuovo nato, qualora ci sia, sono sicuri? Diciamo che per i giovani pazienti di senso maschile non esiste alcuna evidenza scientifica che ci sia un aumento delle anomalie congenite o di cancro nella loro prole. Diciamo che quello che non sappiamo, quello che non è ancora così di dominio pubblico, quali siano le alterazioni che possono insorgere sul patrimonio genetico del singolo spermatozoo o degli spermatozoi congelati. Anche per quanto riguarda le donne non ci sono dei warning, non ci sono degli allarmi su quello che è il trattamento di crioconservazione relativamente alla possibilità che la prole possa avere delle problematiche di tipo congenito. Diciamo che sono stati segnalati, questa è una cosa che ho visto recentemente, una, diciamo così, leggera, una leggera, un leggero aumento di alcune problematiche di carattere gravidico come per esempio la nascita di bambini di basso peso o una tendenza a un parto prematuro. Ecco, queste sono le cose che forse può valer la pena sottolineare. Diciamo che ci sono dei punti di discussioni molto importanti tra medico e paziente per quanto riguarda il tema della preservazione della fertilità. I punti sono sommariamente riportati in questa diapositiva ma io li voglio riassumere in base ad alcuni concetti fondamentali. Intanto la variabilità del trattamento perché logicamente noi qui stiamo parlando di un genere di procedure che può avere che non è unica ma può interessare una serie di metodologie che quindi vanno spiegate, vanno illustrate in maniera molto semplice e capibile alle pazienti. Il fattore tempo, la preservazione della fertilità è un evento che deve essere fatto, risolto nel più breve tempo possibile. La metodologia di questa preservazione, anche questo è un tema che va affrontato e discusso in maniera molto completa. Le sequele a lungo termine, che sono quelle che ho cercato di illustrare prima. I rischi malformativi, badate bene, queste sono domande a cui noi cerchiamo di dare risposta ma che ci vengono poste durante ogni counseling in materia di preservazione della fertilità e l'impatto psicologico che queste tecniche possono avere in una paziente o in un paziente che comunque è già in una fase molto difficile da questo punto di vista. Quindi che cosa possiamo dire? Che preservare la fertilità non sembra essere associato ad un maggior rischio di ricidiva o di peggioramento soprattutto e questo è un tema molto importante della patologia di base. Diversi fattori influenzano il rischio di infertilità dato dalle terapie che la donna o l'uomo affetto dal cancro devono affrontare. Quindi siamo anche qui in un mondo estremamente variegato nel quale possono essere rilevati dei rischi alti, dei rischi intermedi, bassi o molto bassi a seconda degli agenti chemioterapici che vengono utilizzati. Diciamo che il killer, io qui non ho un puntatore ma penso che si legga bene, maggiormente imputato del rischio di amenorrea e quindi di menopausa successiva alla terapia e quello offerto dagli agenti alchilanti. Come funziona? Questa è un tentativo di riprodurre in maniera molto schematica. Come funziona la preservazione? C'è una visita, l'uomo o la donna, per quanto riguarda la donna c'è un inizio di trattamento o di stimolazione, un prelievo ovocitario, una vitrificazione o un congelamento, insomma si tende oramai universalmente a vitrificare gli ovociti e una conservazione a quei famosi meno 196 gradi. Per quanto riguarda l'uomo il procedimento è più semplice, c'è la produzione di un campione di seme che viene poi congelato. Con la stessa procedura si può ipotizzare, specie per le pazienti in premenopausa, anche la possibilità di arrivare a un congelamento di tessuto ovarico per quelle pazienti che non possono evidentemente per motivi più delle volte di tipo anagrafico arrivare ad una induzione dell'ovulazione multipla. Un altro trattamento che noi tendiamo a non considerare ma è un trattamento di preservazione della fertilità è quello offerto dal trattamento con analoghi del gene RH o detti anche analoghi LH. Questa somministrazione diciamo mensile di farmaco attraverso un'iniezione intramuscolare crea una desensibilizzazione dell'asse ipotanamo-ipofisarico mettendo a riposo tutto l'asse gonadico che ne consegue e pertanto in qualche modo limitando gli effetti gonadotossici che si possono verificare con l'utilizzo di sostanze come quelle archilanti a cui ho fatto riferimento. È una metodica molto più semplice, molto più conosciuta da parte di tutti e tant'è che l'adesione a questo tipo di preservazione è molto alta perché circa il 90% delle donne accetta mentre è diverso il discorso della crioconservazione. Quali sono le principali tecniche di preservazione della fertilità? Ve l'ho in qualche modo già anticipate. Criopreservazione ovociti, criopreservazione dell'embrione, non in Italia, spiegherò il perché, criopreservazione del tessuto ovarico, schermatura gonadica durante la radioterapia o transposizione ovarica o foropessi a seconda se si debba conservare la funzione endocrina in corso di irradiamento della pelvi. Le raccomandazioni. Ho voluto citare più che quelle dell'Augoi, quella dell'IOM che è la società di oncologia medica. Perché questo? Perché noi ginecologi ci poniamo sempre in una situazione di assoluto rispetto e di assoluta condivisione di quelle che sono le indicazioni degli oncologi. Questo è un tema che io vorrei che venisse capito molto bene. Non deve esserci una mania di protagonismo di nessun elemento in questa filiera, ma l'indicazione, la liceità del trattamento di preservazione deve partire dagli oncologi. Queste sono le raccomandazioni che loro stessi danno. La trasposizione ovarica nei casi indicata ha una forza di raccomandazione forte a favore, la crioconservazione di tessuto ovarica è una raccomandazione ma condizionata, è un trattamento sperimentale. La crioconservazione ovocitaria è anche molto raccomandata e diciamo che anche il tema della sicurezza, che è un tema molto sentito dalle donne, della sicurezza della stimolazione ovarica in paziente oncologica è da considerarsi in estrema sicurezza anche nei tumori ormonosensibili. Allora, avviamoci verso la fine, tutto questo di cui abbiamo parlato serve o non serve? Allora, nella ricerca di gravidanza i risultati ottenuti con seme crioconservato pare che abbia un suo perché, pertanto vediamo, adesso non voglio andare, ci sono tutte le varie importanti lavori che sono stati pubblicati dal 2001-2015 che ci dimostrano come tutto sommato una buona percentuale di queste persone che in qualche modo si sottopongono a conservazione e poi cercano la gravidanza riescono anche a ottenerla con una certa facilità. Dicevamo prima, in Italia viviamo una normativa di tipo legislativo un pochettino particolare. Noi partiamo dal presupposto che abbiamo una legge che è vigente, quella del 2004, la legge 40 che vieta di fatto la crioconservazione degli embrioni. Dico questo perché probabilmente chi non è nel campo non sa che conservare embrioni in termini di outcome successivo di ottenimento di un bambino nato è sicuramente più performante però noi non lo possiamo fare. Quindi possiamo dedicarci ad altre cose. Questa tabella ci dice quali possono essere le problematiche alla crioconservazione di ovociti e quali le possibili soluzioni. Tre sono i problemi. La stimolazione ormonale di tumori ormonosensibili come quello della mammella. Qual è uno dei problemi? Che usiamo protocolli di stimolazione con inibitori dell'aromatasi e che molto spesso possiamo arrivare anche a prelevare ovociti immaturi o non validi dopo una stimolazione minima. La problematica di questi protocolli è per esempio semplicemente che molti di questi farmaci sono off-label e quindi non prescrivibili in realtà. I tempi di attesa troppo lunghi, questo è un altro problema su cui cerchiamo sempre di avere un atteggiamento estremamente migliorativi e il rischio elevato, concettualmente esistente, concettualmente reale di andare a somministrare una stimolazione che crei un rischio elevato di iperstimolazione ovarica e quindi ormonale in una paziente con un tumore ormonosensibile quindi andando a creare di fatto un substrato che tecnicamente e teoricamente potrebbe essere considerato tossico. L'altro problema vero, cioè il problema che poi si riassume, che va un po' a sintetizzarsi nell'analisi di queste argomentazioni è che per discutere di queste cose, per affrontare questi temi ci vogliono dei centri specializzati e in Italia e nelle varie regioni del nostro paese mancano i centri con una esperienza importante di oncofertilità. Cosa dire anche in questo caso in termini di successo per quanto riguarda l'insorgenza di gravidanza? Chiaramente sono molto vari, vedete che qua propone la tabella un delta dal 12,6 al 46,4% questo logicamente perché se io conservo ovociti di donna sotto i 30 anni avrò un tasso di gravidanza al loro scongelamento molto elevato così come nella normalità se congeliamo ovociti di pazienti intorno ai 40 anni il tasso di gravidanza sarà decisamente meno elevato. Diciamo che possiamo arrivare alla conclusione anche dando questa indicazione prima di tentare una gravidanza gli oncologi ci dicono che sia ottimale aspettare un anno dal termine della chemioterapia o sei mesi dalla fine del trattamento con le terapie ormonali come per esempio quella che viene utilizzata nel carcinoma mammella del tamoxifene. Arrivo all'ultima diapositiva, credo di essere rimasto anche nei tempi con qualche piccola considerazione, intanto nella tabella in alto ho riportato grazie alle nostre biologhe quelli che sono i dati relativi alla nostra banca delle uova e degli spermatozoi, noi abbiamo una attività direi abbastanza contenuta non è questo fatto dovuto al scarso impegno, lo scarso lavoro che noi facciamo in questo senso ma è proprio dovuto a tutto quello che ho detto prima cioè alla difficoltà che le donne hanno, che le persone hanno ad avvicinarsi a questo processo. Quindi che cosa posso dire per arrivare proprio al suono del gong? La conservazione della fertilità nei pazienti oncologici oggi è una procedura relativamente facile e di rapida attivazione, basta recarsi in un centro di oncofertilità come quello presente nella città di Torino. Qualunque uomo o donna in età fertile potrà averne la possibilità perché non esistono limiti di alcun genere e questo cammino deve essere affrontato al più presto, senza alcuna remora durante il percorso di sterilizzazione della malattia, se è possibile e quindi dovrebbe essere, dovrebbe vedere coinvolte tante figure professionali in primis anche quella dei medici di base, degli psicologi, di tutti coloro che in qualche modo si approcciano alla malattia. Finisco col dire che il percorso è gratuito e non comporta oneri di nessun tipo per i pazienti, sia maschi che femmine, che desiderano arrivare a questo tipo di percorso. Io ho finito, sono rimasto nei tempi. Grazie. Grazie. Grazie.